Nacque a Cittadella il 3 aprile 1877, Fiorina Cecchin, è conservato nell'archivio storico del comune della città murata l'atto di nascita di questa cittadina che è stata proclamata beata in Kenya nel corso di una solenne celebrazione a Meru, presieduta dall'arcivescovo di Kinshasa in rappresentanza di Papa Francesco. Nata in una famiglia povera, Merica di Fede, Fiorina Cecchin aderì all'istituto fondato da San Giuseppe Benedetto Cottolengo di Torino, divenendo Suor Maria Carola. Dal 1905 al 1925 prestò il suo servizio in Kenya, dove veniva chiamata Muare Muega, Suora Buona. In precarie condizioni di salute, Suor Maria Carola ricevette l'ordine di tornare in Italia. Morì nel 1925 sul piroscofo che la riportava a casa. Il suo corpo è sepolto tra le onde del Mar Rosso. Nel 2013 è attribuita a questa Suora la guarigione inspiegabile di un neonato, avvenuta proprio in Kenya, che dopo 30 minuti di morte apparente tornò alla vita. Alla beatificazione presente anche una delegazione di San Bernardo di Laghi di Cittadella.